Eccolo! Eccolo! Grande! Hai visto che ho fatto? Guarda che roba! Che cosa hai fatto? Così, non sapevo che cavolo fare a casa. Ho preso quello della shave, no? Sì, Scusa, ma com'è? Così, da solo! Da solo! Ma com'è fatto così bello? Perché ho messo una misura, fanno anche tu, metti una misura, fai... due, tre, quattro, sei, sei, sei e questo, sei e questo, quattro e questo. Ho fatto tutti i peli del corpo, anche le ascelle, anche la pub, bel tutto sei. Però là hai fatto sei, quattro o uno? Quattro, mamma mia! Bello! Senti, ti volevo ringraziare a nome di tutti gli italiani, però l'hanno già fatto. Per quello che tu hai fatto e che non hai detto, però che si è saputo, quindi noi ti ringraziamo tutti. Grazie, caro, grazie. No, è Italia sempre nel mio cuore. Lo so, lo so. Mi sento molto vicino ai italiani sempre. Guarda, io mi stavo preparando per Roma, per gli internazionali, perché siccome sapevo che tu avevi bisogno di uno sparring partner molto difficile, perché io sono difficile, perché se le palle come le tiro io, se le prendi sei bravissimo, perché devi correre. È vero, però ascoltami, dai, facciamo una cosa prima che finisciamo. Cantiamo ancora quella canzone del Sanremo, per favore. Qual era? La terra promessa? Per favore, dai. Dai. 3, 2, 1. Via. Una terra promessa, un mondo diverso, dove crescere i nostri pensieri. Noi non ci fermeremo, non ci stancheremo di cercare il nostro cammino. Oh, mamma mia! Guarda, il più bello festivale che ho visto nella vita mia. Cioè, Sanremo lo seguo sempre, però con te. Ma tu hai visto la puntata in cui io mi sono vestito da donna. Ho visto tutto, ma sei fenomeno. Però sei anche pazzo un pochino. Dai, è normale. Ma lo sai che in questi giorni si sta parlando del festival? Sì. Perché l'ultima cosa bella che si è vista quando ancora tutto questo non era successo è stato il festival di Sanremo. Sì. In Italia. Dove è stata la cosa più serena, la gente si è divertita. Poi, dopodiché, siamo tornati a casa da Sanremo e è successo tutto questo. Molto probabilmente la prima cosa che si farà sarà il festival di Sanremo. E proprio Amadeus, che tu hai visto il Lost, The Host, mi ha chiamato e mi ha detto, lo rifacciamo di nuovo? Sì. E io ci sto pensando, tutto qua. Eh, però, quando? Subito dopo? No, sempre a febbraio. Sempre a febbraio. Ah, sempre a febbraio. Tu dove sei a febbraio? Sei in zona Monte Carlo, per caso. Ma, beh, cioè, a qualsiasi posto del mondo vengo a guardarmi ancora una volta. Dai, dai, c'è te. Un team imbattibile. Senti, no, io ti giuro, ero migliorato tantissimo. Ero migliorato tantissimo nel rovescio a una... Io però lo faccio a un... No, 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 rovescio proprio in top. In top. Sì. Due mani, un mano. No, sono andato, sono andato a Bordichiera. Da Pianti? Da Riccardo? Ah, sì, è andato per proprio trovare un maestro. Sì. Ho palleggiato un po' con il ragazzino, con Sinner. Ok. Bravo, eh? Ti piace Sinner? Sinner, bravissimo ragazzo e bravissimo giocatore. Sì, sì, migliorerà tanto, eh? Sì, sì. Migliorerà tanto. È magrissimo. È più magro di te. Dai, io mi piace. È per quello mi piace. È magro, magro, forte. C'ha le gambe come il mio polso. Però, hai visto, è veloce, è forte e... Forte, sì. E c'ha bella testa. È qui, tutto è qui. La maggiorità è qui. Sempre. È già grande testa. Sì. E lì mi hanno fatto il video, no? Ho fatto il video. Sì, sì. E a un certo punto ho messo il video, c'ero metà io, metà dentro io e metà tu. E metà io. Sì, davvero. Per vedere la differenza e gli errori. E gli errori. Quindi era tutto rallenti, uguale. Uguali. Io partivo così, con il dritto facevo così. Sì. Ed eravamo proprio uguali. E poi... Allora, tu eri tutto verde. Sì. Con le frecce giuste. Sì, le frecce. Green. Tutto green. E tu? Io tutto rosso. Io tutto rosso. Red. Tutto red. Tutto storto. Grande, grande. Fiore, un grande saluto. Grazie. Un grande bacio. Grazie, amico mio. Ti voglio bene. È un piacere sempre vederti. E ci vediamo presto. Anche a me. Ti ricordo che il 16 maggio fammi gli auguri perché compie un'età molto importante. 16 maggio, il tuo complanno? Un'età molto importante. E 40? Più 20? Più qualcosa? Più 20. Ok, bene. Ciao, amico. Grazie. Grazie a te. Ciao. Grazie a te.